ciao a tutti e benvenuti all'offerta del mese di kajal e questo mese abbiamo pensato di offrirvi due alternative una che è un trattamento total body ovvero viso e corpo all'interno della nostra suite benessere dove si può scegliere in totale relax il trattamento più idoneo a voi e poi abbiamo deciso invece di mettere in promozione un trattamento funzionale per riattivare un po il metabolismo e la circolazione con la nostra idrobike e l'istruttore virtuale l'idromassaggio e un trattamento basato su una diagnosi corporea per trattare i vostri inestetismi e le vostre problematiche del corpo quindi circolazione cellulite adipe e via dicendo vi aspettiamo grazie mille francesca grazie a tutti